Cultura 4.0 è questo il titolo dell'edizione numero 13 di Lubec Lucca Beni Culturali in programma venerdì e sabato al Real Collegio. Due giorni di eventi dedicati ai beni culturali, al turismo, allo spettacolo e alla tecnologia, due giorni in cui oltre 150 relatori si alterneranno in convegni, workshop, laboratori e seminari formativi. L'edizione 2017 è stata presentata nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio che sostiene insieme al Comune l'evento organizzato da Promo PA Fondazione. Siamo qui a presentarlo stamani in Fondazione che è il principale sostenitore di Lubec e che ci ha consentito di arrivare a questa tredicesima edizione che si presenta con più di 150 relatori, più di 15-16 mi sembra workshop e più di 1000 iscritti al momento. Quindi siamo molto contenti e ci auguriamo che da questa edizione possono venire fuori delle belle proposte per la valorizzazione dei beni culturali sia a livello nazionale che a livello toscano. Il titolo Cultura 4.0 si lega al tema dell'Industria 4.0 della Quarta Rivoluzione Industriale sostenuta dal governo italiano per creare un ambiente favorevole alle imprese che tenga conto della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici in atto che senza dubbio non può lasciare indifferente la valorizzazione dei beni culturali.